La cassa è un elemento di fondamentale importanza di un brano definito industriale. Genera impatti, ritmica e andatura del brano. Andiamo principalmente a notare quattro tipi diversi di cassa. Andiamola in una sequenza abrasiva. Era un esempio di Sinti Ignorante. Sintiamo il tutto con un po' di rumore. Sinti Ignorante. Sinti Ignorante. Sinti Ignorante. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. 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 Oh, what did you say? How would you like to suck my balls? Holy shit, dude. Oh, what did you say? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.